Siamo finalmente qua e ci stiamo preparando per andare agli egipti e questo è il nostro primo video della giornata Allora bella raga io sono Rebecca e niente io stiamo andando alla Games Week e ciao ciao Devi girarla, come? Devi guardare noi non la strada, la cerchino che ne frega un cazzo della strada Ah così? Sì Sto andando anche qui e la saluta e non ho la minima idea di come sto scendo e se ho la scena Ma sai che c'è un problema? C'è una idea di dove parcheggeremo Ah bello, bella E niente, ora ci siamo e... Perché parcheggiare in vinto questo è tutto semplice Ah, col cavolo Ma proprio col cavolo Andiamo senza pagare Eeeh Siamo qui e cosa succede? Non abbiamo ancora trovato chi ci interessa Eh, e dobbiamo cercare Jumbo e non lo abbiamo trovato, vero Rebecca? Zumbo ti prego Fatti trovare Esatto Noi... Noi siamo tue fans Sto riprendendo a base Noi siamo tue fans Io sono a dieta Io sono con gente che continuano a parlare di cibo Ma vi rendete conto della sensibilità che hanno nei miei confronti? Chi sei te? Sto cazzo sono Sto cazzo Quindi Io sto girando con delle persone Lo sai che sei si? Esatto Se ne fregano di te Ma perché che siete? Mi credo di me Quindi adesso vado in gula Adesso vado a farmi un giro da sola E ti credi niente E troverò Jumbo da sola Rebecca, ti piacciono le fragole col cioccolato? Sono buone Sì? Però non le mangio da quando ho scoperto che sono all'erbica Come? Te ne offro un po' se le vuoi Sì Hanno appena finito di mangiare il waffle Adesso sono qui a prendere il bubble tea Perché io ovviamente Mi prendo la me Sì? Perché io ovviamente posso mangiare e bere cose No? No? Eeeh Eeeh Che cazzo è? Che bella No E' una GoPro Davo cedula gag Che bella Eeeh 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 I viaggi Abbiamo provato a fermare, a vedere Giungo e Brillo ma era contornato da ragazzini, ragazzini di 15 anni E' già andato perché non so quanto, si è fatto con l'interno, è abbastanza spaisato, potete vittare voi che non so come fare dentro Siamo qui con lei, esatto, siamo qui con lei, a lui con il canale del Carvavich, che spiace, perché se no non è perfetto che uno vuole Esatto, non ci paga lo stesso, però ti paga ancora meno, esatto, meno dello zero, esatto, e va bene Siamo qui con Bertra e niente, ci siamo, ciao Sì, io ho un po' di cuore F***, cosa stai facendo? E ci sono i miei due amori Ciao a tutti, siamo qui al Games Week, c'è un po' di vento, nonostante siamo all'interno delle mura, forse per l'afflusso di persone No, pensavo di essere bagnata sotto la scella, spero non si veda E devo salutare? Saluta le Carmen Bicis Le Carmen Bicis, credo di averlo detto giusto, nel caso mi dispiace molto, comunque sono negata in inglese Ciao Ok, ciao ragazzi, sono Charlie, seguite questo canale, lascia un like in questo video, condividetelo e ciao Carlo Bicis Ciao 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 Oggi siamo qui con la vincitrice della gara cosplay, perché ovviamente solo noi possiamo farci il video insieme, vero? Yes, assolutamente Ok, quindi vuoi dire qualcosa? Ciao, sono Lucy Lane, ho partecipato alla sfilata e ho vinto come sindragosa, guardate il mio profilo Instagram e magari farò un video con Hillary e Rebecca Perfetto, noi siamo le Carmen Bicis ovviamente, quindi mettete mi piace se la volete come ospite in un nostro video in cui faremo cose insieme E cos'è detta così, sembra qualcosa di zozzo Wow Sicuramente E vabbè, speriamo che esca in un altro video, che appaia in un nostro video e niente, siamo onorati di avere il tuo saluto Cristina, seguitele tutti, 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 perché sono bravissime e simpaticissime Anche te sei bellissima ovviamente Sta iniziando a svuotarsi Ciao ragazzi, siamo qua E siamo morte Non esistiamo più, io non esisto più, mi sto volatricendo perché la mia anima mi sta abbandonando Però ciao Siamo morte Ciao ragazzi, noi abbiamo finito questa ventissima, sono stati tre giorni Siamo distrutte, vero Rebecca? E non ho le forze nemmeno di parlare Esatto, quindi parlerò di più io e lei muore, è morta, c'è che prendete, poverina Che grazie per me Pray for Rebecca Esatto E niente, finisco con il nostro video E fateci Soveteci, iscrivetevi, commentate E fate tutto quello che dovete Ciao Ciao Ciao